ok 321 registro che aspetta fammi cancellare uno di questi no aspetta facciamoli a lui il primo personaggio volevo farlo in ordine lui è comunque il primo paradossalmente allora questo è quello che uso io ma il tuo vivente lo tieni questi 3 questa è la mia versione no che poi modificare questo ma queste sono le due non sto a mettere la versione delle mosse niente beh metti shapeshifter siamo a posto faccio solo ovviamente tra questi sono tipo nuovi alcuni saranno nuovi di loro alcuni saranno nuovi grazie alla storia non posso questi fluo però mi piacciono quelli con le unghiette è che saranno sicuramente storia questo c'aveva le unghiette nella storia questo è brutissimo quali sguardo per di più il nostro com'è e devi ancora mettergli la skin sai che devi guardare la skin perché poi cambia il palette però sai che forse mi piacciono quelli base mi lasciava rimase però cambia prima skin no no destra no destra r1 a x ok vai giù non così giù ok è l'infinito è un lupo infinito queste sono bloccate olè abbiamo sbloccato tutte queste quindi guardiamolo un attimo il dragone questo è stato il finale con vari colori e trecine bello quello blu intanto metto quello con la corona la versione con la corona sì sì mi piace di meno e poi c'è quello in giacca vabbè questa è con la film esatto in realtà questa è bellissima con i guanti quelle vecchie queste sono quelle che avevamo già abbiamo sbloccato appunto con la storia quelle con le corone e quelle elder god no non mette la giacca c'era già uno con la giacca ha capito è la mia versione va bene metto quello con drago pensavo che volessi dire facciamo lo shansung del finale after math no voglio fare uno shansung figo a cambia la scroll non quello che c'è scritto strano a volte è questa con le manine mi piace è il tempietto un bello questo non molto simili in realtà non ce ne va a questa è diversa però non ci sta col costume nome è questa blu non poi c'è strano come si va non puoi girare a sì che poi c'è sì ci sta bene vedi questa la tiene sul fianco bella quella bonale rendance of chronica questo ci stiamo stanzi a vedere questo è orribile questa è bella stiamo facendo tutto blu e oro regale bella anche quella in cui vedi un sacco di essenza questa quasi steampunk ovviamente ovviamente sole beh ci piace dai è un super shan ok destra destra fai farlo a me che faccio più veloce dovrei fare il sistema velocemente vabbè io non lo userò mai beh dopo ovviamente ah giusto queste non però queste non glielo ho soltanto benì ho niente l'outro ho sempre quella come si fa a vedere? ho dorato questo è bello perché appunto sei l'avversario e si trasforma in shansung si cioè lui si tramuta nell'avversario all'inizio l'uscita purtroppo è guardiamole tutte anche le entrate ah si si non le abbiamo già viste in qualche reaction non combat cast voglio rivederle con questa versione ah questa è meglio tu hai mio interesse yes quella decisamente la migliore ci sta vabbè per la citazione ma però mi piace più questa a me questa ovviamente è la migliore eh questo è un classico esatto anche se lo zoom non mi piace è che anche lì citazione al film che facevano lo zoom così questa è panonissima ma nella mia versione teorica metterei le due cose di fuoco cioè questa e questa beh ci sta e basta e ciao ciao quindi vuoi fare uno di tutti si dovrei avere pazienza ma eh no più che altro dobbiamo avere tempo quindi belles veloci questo è nuovo? è un martellone del del vediamo no no voglio il cristallone aspetta che devo mettere la schina no sa che mi face nudo bellissimo vola verde yes yes no questa è bella guardalo è bellissimo e lo lancia che la tira fuori una volta ogni vent'anni e non la vedi però vabbè cioè questo è molto samurai però ma sì che figo che è qua sappiamo già quale segnerai questa trust bella questa molto power ranger no però prendo questa è molto classic però è tipo la versione migliore della classic faccia beh abbiamo trovato quella giusta ma dai ma scusami eh cinghiale faccoccia guarda che bella però è tutto molto cioè non puoi veramente personalizzarla tanto no 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 beh questa è in tema con la maschera le hai due equipped ne disequipperò una per avere la mia cosa certo certo ma però la faccia la cinghiale mi piace quella nightwolf sappiamo che sarà il reverend non è lui e destra questo questo si vai non credo lo farò il reverend no adesso lo vedremo vabbè eccolo forse lo farò il reverend mi sa che metto il delmetto questo questo è già meglio anche questo bene nightwolf sei stato una delusione maglietta di mortalcom rossa calzoni bianchi vabbè non c'è dubbio c'è dubbio tentato di mettergli degli occhiali da da schifido ma però dai scusami stiamo facendo lo zarro schifo è orribile bellissimo oh da pugile proprio mi piace oh vabbè ovviamente stai mettendo le stesse che ho con gli occhiali che ho scritto Johnny Cage questa ci sta molto bene e la nuova questa l'avrà già vista semplicemente non ce l'avevi erano aggiunte con Aftermath però ok grazie a tutti grazie a tutti Buon appetito Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Beh questa ma non sono molto contento. Tu non hai visto il risorriso che fa alla fine però. Stai per rovinare la mia giornata. Comunque questa ma... Spawn! Ce l'hai già, è mostarda. È mostarda? Mustard. Ho sempre voluto farne uno bandito però figo. Questo è bello. Però mi piacciono quelli tipo bandito bianco e rosso. Mi ricordo quando uscì Spawn e io dissi... Questo è bellissimo e tu? No. Anche questo è bello. Anche questo è bello. Anzi preferisco base bianca a resto rosso a base rossa a resto bianco. Ma c'è questo. Questo è figo. Questo fa troppo strano. Questa è un'altra versione. Ok. Le versioni weaponized. Sì però tipo c'è un minimo di armatura. Sì sì sì. Anche questa versione mi piace di meno sai. In generale. Troppa roba addosso. Non lo so. Sì. I gusti cambiano. Anche questo è bello. È meglio se non piace a te piace. Così diventa davvero tu. Cioè lo farò sostanzialmente uguale a quello che avevo prima. Gli ho dato la costumizzazione in bei posti. Però la qualità della roba è orrenda. Anche quelli che non hai sbloccato. Sì sì sì. Cioè tipo questo è bellino. Perché è un po' unico. Però è giusto. Vabbè allora questo. È molto semplice però. Ovviamente. Fammelo rivedere. Certo col tuo. Sì. Let's go. Terza fila. Scorpion Verde è un insulto. Quindi lo facciamo metallico. Per Sarsiro. Hai vinto. Le voglio. Se ci fossero. Ecco queste mi piacciono. Sono praticamente. Anzi così che sono anche. Sì. Però le voglio praticamente senza Elsa. Questo è elfico. Però seghettato. Esatto. È bellino questa in realtà. Sai che? Con l'estetica metallica per cui stiamo andando. Il seghetto. Il seghetto ci sta. Beh il seghetto infuocato ci piace. Guardalo con i coltelli da prosciutto. Bellissimo. Questa non l'ho mai capito. Perché? Ho vinto. Esplodo. Ah c'è un'altra. C'è un'altra che non ho. Posso guardarla? Sì. Perché ha la spada sembra. Eh lo so. Questa è la più bella di tutta. Yes. Questa penso sia compatibile. Quindi ringraziami. Oh god. Stupenda. Questa è meditale. Faccio moltissima fatica ma non ci sta con le rocce infuocate. Sì. No vabbè queste sono. Te l'ho detto che sono stupenda. Questa è stupenda. Assolutamente questa. Guardalo. Qua invece voglio limitare le spine al minimo. Questa è bella infatti. Forse. Abbiamo trovato direi. Effettivamente ha delle spine. E lo so che almeno è tema con. Sì sì sì. Sai che forse è meglio. 3-4. C'è anche una sotto. Ah quella lì che abbiamo sbloccata nella storia. Me lo ricordo. Questa è bella. Oh yes. È molto semplice. Però ci stiamo capendo. Questa è nuova. L'abbiamo sbloccata oggi. E ce n'è un'altra ulteriore. E l'altra se mi sa che era quella base. Eh sì sì. In realtà è molto probabile che io lo faccio uguale identico a quello che l'abbiamo fatto. Infatti apri quella che hai già fatto. Va bene così. Qua ce ne sono di cose. Lo faccio viola. Ho già deciso. Vabbè dopo questo faccio solo i miei favorite characters. Poi ci picchiamo un po'. Quello. Ok. Dai fine. Eh aspetta. Menia. Ti direi. Faccio un passaggio da cabal e poi ci semeniamo. Devo avere la mia... Eh chi uso qua? Perché Shell of Brood è il mio precedente. Sì. Se vuoi modificare l'uno modifica l'uno. Ma no se no modifico lui. Così a tema. Ah quello qua in C. Sì. Quasi quasi sai che... No lo farei uguale a Shell of Brood. Lasciamolo così. È così bello lui. Ok vai. Tu che scegli? Non lo so. Fugli. Ma scegli quelli che hai modificato e creato. Vabbè che ti fatti adesso. Mi hai rotto il scappo. Ne ho fatto la metà solo così per divertimento. Va bene. No non Jacks. E il punto che non abbiamo cambiato le mosse. Quindi abbiamo... Sono a caso. Sì. Esattamente quello con i buff hai preso. Vai su casuale. Quello che vuoi. Veloce. No che ho preso quello che ho modificato io. Sì sì. E dico. È quello che i buff. Ma non mi interessa. Va bene lo stesso. Allora io. Quindi non guardo. Ho fatto la selezione casuale. Hai fatto la selezione casuale? Sì. God damn it. Allora sono uno sciccio quando vince la... Oh God. Aspetta. Era Jade? No. Era la mia seconda scelta. Fammi pensare... Sono a destra. Ok. Mi hai colpito lo stesso nonostante mi sia abbassato. Quella è la cosa che ho sentito. Senti. Non so le mosse. No ho fatto... Comunque stai vincendo tu. Non sto scherzando. O no. Oh no. I denti. Sì. Ma tranquillo vinci tu lo stesso. Ho vinto a round. Tu? Ok. Sì. Però ora sono a... Il mio problema è capire dove sono. Se io sapessi in che direzione sono avrei più chance. E quello è bello. Eccolo qua. Sì. Ok. Ok. Ce l'ho fatta. Goddard. What? Jesus Christ! Elevate! No no. Dove è stessa che... Ok. Non è vero. Non è ok. No hai vinto. Sì. No. Era a destra o a sinistra? Era a sinistra. Sì. Ti ho rigirato un po' con le prese per non farmi uccidere. Perché se no nel primo round lo stavi vincendo di brutto. È che appunto io provo le mosse e poi sento che non vai e quindi ah no sono dall'altro lato. Poi provo ma comunque no. Non funziona. Però il fatto che tu ci sei andato vicino è allarmante. Cioè secondo me se usci fusi mi uccidi. No problem. Assolutamente no perché il mio problema... Ripeto. Cioè se io sapessi dove sono... Allora potrei sapere... Oh no. Sixth Gangstein. Oh il mio vecchissimo. Uno a caso. Casuare, casuare, casuare. E ti hai messo di nuovo? Certo. È che io non voglio guardare le mosse. Cioè io vado a caso. Spammo se trovo le mosse le trovo. Sì sì sì. Ma infatti questo è il punto. Uno che non sa le mosse eccetera. Uno cieco nell'anime e uno cieco davvero. Allora vediamo. Sendo di chi è. Allora questo sei tu. Sì. Oh Terminator. Oh Terminator. Oh God. Se c'è uno che non volevo combattere con... Uno che non puoi combattere. Uno che non puoi combattere. Ma non ha l'acqua. Round 1. No ho buttato l'acido. God damn it. Ok. Cos'è? Un crushing blow all'inizio. Serto. E cos... Cos'è il diavolo? Mi stai facendo una flawless. Ok. Yes. C'è lì. E io ti lascio lì nell'acido. Perché tu non sai che c'è l'acido. Ok. Mi ricordo solo perché non sei... Ok. Ma scusami le mosse con la... Con il diavolo di coso? Tu devi fare le combo. Sì ma... Sparare! No. Spari con... Così. Ok aspetta sono io. Ho vinto però di pochissimo. Tu non hai idea. Accidente. E non ti dirò che cosa è successo. Non so proprio come tirare fuori il fucile. Cioè... Indietro è avanti il cerchio. Però il fucile è la cosa che ti sembra di meno. Vai c'è un... Aiuta. Cosa? A avere il fucile. Però sì se scommi tipo avanti il quadrato triangolo. Non so dove cavolo sono. Non riesco a sentire cosa ha fatto il momento adesso. No. No. Ok. Aspetta. Ho spassato 6 anni a cercare di capire dove ero. Ti ho fatto il crushing blow del doppio calcio in avanti. Oh non l'avevo mai capito. Ma tu... Mi hai imparato un fatal blow. Quando ho sparato non ero riuscito a sparare con le pistole. Era il fatal blow. Bellissimo. Infatti io ho detto... Per questo ho detto così. E poi non ho sentito il fatal blow. Esatto. Che ha continuato. E mi diceva ma perché? Andiamo di tosti. Addio santo. Vabbè se c'è uno che sai counterare anche... No perché ti trasporti. Scorpion. Cioè faccio solo A perché allora ce la posso fare. Sì esatto. Io devo stare attento perché probabilmente... Il punto è che probabilmente il momento è che è silenziosissimo. Sì esatto non dice niente. Vivo niente. Però al primo round ci sei andato ancora più vicino davvero. Perché poi ho sprecato il fatal blow. Ah ovviamente tu non sai quando farlo. Cioè ogni tanto secondo me... Ah sì sì. Devi sentire l'input. Sì. Oh god damn it. Sono morto. Non ho una chance al mondo. Aspetta sono Jack Nicholson. Sono quello io là. Sì. Però aspetta Jack Nicholson che ho dato i guantoni qua. Ok. Ok. Non lo so. Oh no. Perché io non so come si fa al teletrasporto. Mi hai già fatto un crash window. Ho fatto il crash window che non riesco mai a fare. Alla cieca. Ti giuro che non riesco mai a farlo. Io non so cosa sto facendo. Non conosco le mosse base. Allora. Indietro avanti il quadrato credo. Lo spear. Giù indietro A. Cioè giù di Prince. E il teletrasporto. Schiaccio triangolo in telepombo e avrei la squadra. Oh no. Ok. Aspetta. Accidenti. No. Mannaggia hai vinto. Hai vinto? Sì. È perché ho cominciato malissimo. Ok. Lasciami respirare. E' il teletrasportato. Ah. Crushing blow del coso. No. Accidenti. Magnate questo. Ok. Boom. Eccolo in altro. Vai. No. Cosa? Ti ho fatto il crushing blow dell'uppercut. Ah giusto. Preso. Mmh. Ora il fatto che tu abbia vinto un round è già spaventoso. E io adesso scappo. Arrivederci. Arrivederci. Sono scappatissimo. Cosa sta succedendo? Eh io devo anche evitare di morire dalle risate ovviamente. Perché io vedo cosa sta succedendo. Ti ho colpito tipo quattro volte con un pugnetto schifoso. Tu non hai idea di cosa sei appena riuscito a fare comunque. Non vorrei dire. Aspetta. Non ce la posso fare. Ok. Ma perché non mi prende più un cavolo di combo? Perché no? Mmh. Parassi. Vai. Ah mannaggia. Ok. Ti aspettavi? Sono morto. Se riesci a fare anche la fatale. Ah si aspetta. Eccola. No potevo fare la friendship. Non l'hai mai imparato? No si che hai imparato. Siamo in local quindi non c'è per niente. Ah hai fatto a friendship? No. Ah no c'era il palloncino. Fatale. Eh Joker sapevo di non aver scampo. La cosa divertente è che mi hai risposto a un teletrasporto con un uppercut a un certo punto. Ah ok quello non lo so. No con un uppercut proprio a casissimo. Lo so che hai imparato un paio di teletrasporti e quello si oh god è imbarazzante è imbarazzante non per te ma per il gioco cioè il Joker è OP l'abbiamo appena assodato è un enorme vantaggio non so che suoni faccia e io non so che mosse faccia indietro avanti cerchio che brutta combinazione. Adesso se ti capito io ho il Joker. No spero di no. Geras. Se io così cucita ti. Spawn. Oh god. Mi ha dato che tu l'abbia riconosciuto prima di me e io... E il mantello. E solo te il mantello ce la so io. Ma tu Spawn lo sai usare. Ah io ho preso la mia per sbaglio. Sbagliato. Eccolo. Sbagliato. Oh no. Allora hai davvero quella mossa. Ok. E indietro avanti cerchio non fa niente ti informo. No come l'hai appena fatto? Ah no era la presa. No no era la presa. Niente fa niente. E questa è la cosa divertente. Ma quella era una mossa. Ok. L'hai preso con l'upper cut. Oh god. Eh la mossa è finita. Sì che è in realtà. C'è che non riesco a... Ma perché lei non ha mosse? Ti si può ce l'ha. Ti si può ce l'ha. Però... Spawn con triangolo. Lo so dove dico per tutti i personaggi. Sì io lo so. Ahia. Mi sono di là. No. Ah ok. Non sei più di là. Vediamo. No che ti giuro non riesco a capire. Sarà che forse devo parare. Non mi sto parando mai perché ho paura delle tue opere. Però riesci a fare comunque delle discrete combo. Quando sono vicino a te e tu sei imparato mi viene in automatico. No ma fai bene. Non so neanche più di questo. Fai qualcosa di interessante e stupido di un personaggio. Ti giuro perché non fa suoni il mio spazio? Perché io sono dall'altra parte della mappa ad esempio. Ah ah ti ho ucciso. Ti ho fatto quella cascata d'acido. Ero qua. Sei entrato e si è preso per un pixel. Nel senso. Lui c'è due cose. Però una volta l'hai concatenato. Non quello da 600 perché sarebbe all'angolo col crushing blow però. E figurati se so quando sono all'angolo. Sì esatto. Jesus Christ. Non vedo l'ora di rivedere queste cose. Sì e ti stupirai di cosa sta succedendo. Questa finirà malissimo perché non mi ricordo. Giù avanti triangolo. Giù avanti triangolo è... Sì. È vero. Il gatto se ce l'hai indietro avanti cerchi. Indietro avanti cerchi. Forse è anche in volo. Se vuoi proprio fregarmi. Secondo te io salto. Non ho mai saltato in nessuno scontro fino ad adesso. Oh io sto cittante volte. Sì. Oh no. Non sai neanche chi è. È Jake no. È Jakey sì. Oh è... È Jakey Briggs. Sono mortissimo. Secondo me invece mi strabaccio. Se spammo nella direzione giusta sì però. Ahia. Ahia. Mi sono proprio successo. Ho volgato. No! Ok. Ho sbagliato due volte. La stessa cosa stupida. Magari. Ah ti ho mangiato di un filo. Oh eccolo. Ah. Ah perché io non potenzio le cose? Vabbè ti ho tirato una sbandata. Io lo so proprio. Non sai da che parte sei. Ah giusto dovrei anche pensare a quello figura. Quello non si può potenziare però. Mi hai fatto la cosa... Bellissimo. Stupendo. Ah guardate. Grazie a te. Ok adesso sono a sinistra. No lo sei a sinistra. Vabbè nel senso. Sono andato a posti di prima. Perché hai potenziato il coso. Eh. No è mettere il volo. Sì sì. Senti dico. Tranquillo goditi il sole. No. Sei bloccato all'angolo dello schermo. Ah sono a sinistra. Ti ho preso in volo. Ecco. E vabbè io ho capito di cosa potremmo fare. Io non ho idea di cosa possa aver visto il mondo. Allora sei riuscito a farmi all'angolo il fuoco del leone. Che volevo farti da te. Non lo so. Ma che quando hai fatto tutta la cosa senti che hai iniziato a spararmi. Io avevo per caso appena messo il sole dove eri tu. Ed ero dall'altro lato dello schermo. Quindi tu non potevi andare indietro. E diregli tipo. Ok. Va bene. Eh. Criature feature. Sei stupido? Vabbè voglio darti una chance di vincere. Di nuovo. Bella questa duora però. No. Di solo di buora bella. Beh ma che questo mi piace. Oh che schifo. Oh no. Johnny Cage. Io non ti confermo più niente. Tanto senti una voce. Sì sì. Oh god. Dove ne so anche alle vorie. No. Cos'è quello schifo? Oh no. Aspetta. Contemi. Sì bel tentativo. No ma fermo anche la presa? Sì. Io ho provato a fare la presa pensando di essere furbo. No no. Vi dico cosa è il colpo basso. No. Cosa sta succedendo? Ma cos'è quella mossa lì? Oh no. Ok. Noia. Ho imparato il colpo basso. Quando rivedrai questo footage non mi vorrai mai più parlare. Sulla cosa hai fatto? Ho spammato cerchio basso l'ultima metà del comodo di me. Ok no di qua. Mi avrei saltato dall'altro lato. Allora c'è io. Ok god damn. Speravo non ti accorgessi di qualcosa che puoi fare. Oh no. Vieni qui. Preso? No ti ho preso io. Ma che c'è fatto così? Ti ho fatto il contrasto alla presa. No no. Ma quel tizio come si può parare? Ah si può parare letteralmente. Che io non uso mai R2. Mi ero parato. Non mi posso parare da dietro immagino. Vieni qua. Continui a parare. Che dici? Madonna se il vore è terribile. No no. Ole. Madonna. Santissimo. Schifo. No. Vai che cosa c'è? Il... Vai che è l'artiglio. No non l'artiglio. Mi hai fatto il coso... Mi hai ucciso con l'upperkart. Farkart, sì sì. Io non ho più il fattato blow. This is the end. Te l'ho detto che prendere R2 era un modo per farti... Non fa danno e non fa mosse. Smettila! Come ho fatto a non prenderti. Ti è passato a un millimetro dal naso. Ho parato! Non vale. Non vale. No, ho fatto solo l'acido per terra due volte e mi fa schifo. Ti ho tipo... No, ho avuto per fare il fattato blow. No. Perché avevo un po' amore che me lo facessi però. Ok. E la mia unica chance erano i tizi. Sì sì sì, infatti. Devora vince. Che schifo. Ultima partita, poi vado. Due. Una. Ho sbagliato. Hai fatto di me. Oh, grazie a Dio, ascoltate. Bene. Vabbè, devo prendere il tuo amore. Hardcore historian. Finisci al torneo. O al... Quella che volevo. Nostalgia real. Il miglior modo di finire. Ora devi battermi. Perché se vince Geras la serata è rovinata. Dopo guardo. Dipende chi prendo. Prendo Scorpion, sei morto. No, sì. Per di Scorpion sono morto perché io non so parare. Oh, non Terminator di nuovo. Come Terminator hai vinto, no? No, non hai vinto. È troppo silenzioso Terminator. Che personaggio è che con l'indietro avanti quadrato non hai niente. Come no? Dovresti avere il fermatempo. No, non l'indietro avanti quadrato. Ma Geras è orribile. Buongiorno. Allora sto succedendo. Ha fatto uno schifo. Una mossa che è durata mezz'ora. Sì. E sto andando, tipo. Sì, ma sto perdendo di brutto, tipo. Geras è orrendo. E perché non lancia le cose? Ma siamo impazziti. È il tizio più grosso della storia. Come non lancia le cose? No, ho fatto due escape. Invece di tirarti due cose. Hai vinto tu il primo round, ma easy proprio. Hai vinto tu o devo vincere? Lo so, lo so. Ma va bene. Il punto è che sono stupito da quanto faccia schifo Geras. Sto a capire. Neanch'io! E io teoricamente sono quello con... Schifo di personaggio. Che cavolo sono? Ok. No! Ti stavo per prendere con una sballata! Purtroppo Geras wins. Ma io sto facendo il Fatal Blow. Ho fatto il Fatal Blow e ti ho mancato? No, no, non l'hai fatto il Fatal Blow. Ma perché non hai partito il Fatal Blow? Oh, God. In realtà io ti fumo per te, però. Non te la darò minta facile. Mamma mia, sei lento quest'uomo. E non escono la mia incapacità di fare le mosse, poi figurati. Oh! Dai che è quasi... Hai vinto! Madonna se fa schifo Geras. Orrido! Indietro giù, sì. Indietro giù, va. No! Cosa è successo? Si è disconnesso lui e quindi mi ha detto vuoi riconnetterti? No, God damn it. Vabbè, io devo andare. Tu alzati, scritti la B. Vicky Geras con un CPU. No, no, no. Smettilo di muovere quel coso. Ah, sorry. Volevo finirti con la finish, con la friendship. Ah, ok. Ho fatto giusto. Ok. Così il video finisce bene. La incolli in fondo all'altro. Guardalo! E si decille. È finita. Vabbè, dai. Due wins senza guardare. Geras. Geras è orribile. Te l'ho detto. È davvero orrido. Top tier. Nei campionati. Lo so, lo so, lo so. Ma anche Cetrigon è orribile top tier nei campionati. Anche Jackie è orribile. Però Jackie la capisco di più, sai? Cioè, Jackie è orribile come orribile Shiva. È una brawler. Da fastidio? Sì. Non è bella coreograficamente? Sì. Però capisco perché io posso... Ma Geras e Settrion sono tipo qui? No. Ci sono delle polenti. Comunque c'hanno. Eh? Ah, vabbè, sì. Le chiavi sono o no? Eh, poi. Allora, io non mi voglio mettere qui, però. Ma perché la giusta, la vostra prima, la vostra prima, la vostra prima, la vostra prima. Ma che ci fate ancora qui? Andatevene. Sciò, via. Quit. Basta.